Ah, siamo alle solite! Bentornati ragazzi in questo nuovo video! Oh, avevamo appena finito di dire, nell'ultimo video di Legends, ragazzi hanno migliorato il PvP e siamo tornati alle solite! Il team di sviluppo durante questa meravigliosa stagione ha avuto delle idee sensazionali. Iniziamo a raccontare quello che è successo in maniera tranquilla e controllata. Durante questa season ancora in corso, dopo le modifiche che io avevo lodato nell'ultimo video legate al PvP, che avevano un po' migliorato quella situazione di stress che i giocatori dovevano avere anche per ricevere delle ricompense semplici, come la Top 10K, è stato completamente mandato nel cesso durante questa stagione. E voi vi direte, ma Dani, ma come hai fatto ad accorgertene così tardi? Io, ragazzi, come vi avevo detto, e io le cose che dico le faccio, io mi sono allontanato dal PvP e ho giocato praticamente solo le first win per avere i ticket, dato che questo mese c'erano le LF gratis, quindi hanno inventato un modo intelligente, e quindi qui gli diamo merito di aver fatto una buona cosa, di dare dei ticket alla prima partita sia vinta che persa che fa i PvP, quindi bello, mi è piaciuta questa aggiunta. Però, che succede? Abbiamo il nuovo e rinnovato problema di design del PvP che si fa sentire prepotente. Questo perché, vi faccio vedere, non sono in top alta, avete visto, sono 11.400, oggi è l'ultimo giorno di stagione. Il nostro caro team di sviluppo dà 30 punti ogni vittoria e te ne toglie 45 ogni sconfitta. In un mondo dove si cerca di mantenere il gioco stressless, quindi con poco stress, per i giocatori non competitivi, questo credo che sia il sistema più brutto che potrebbe essere implementato all'interno di un gioco. Io pensavo erroneamente nell'ultimo video, quindi vi chiedo scusa se ho elogiato questo gioco, mi rimangio tutto, il PvP attualmente fa schifo di nuovo. Cioè, sono durati una settimana, perché questa season dalla durata di tre settimane ha le stesse regole a livello di sistema di PvP di quelle normali. Quindi questo significa che una volta raggiunto il rank 70, voi vi beccate 30 punti alla vittoria e 45 alla sconfitta. Questo implica che con la bellezza di tre vittorie fate 90 punti, ma con la bellezza di due sconfitte voi ne perdete 90, quindi tornate al punto di partenza. Questa cosa è tossica da far schifo, anche perché il PvP è costernato di Janemba Ultra, che non tutti hanno trovato, e che ovviamente ha creato dei problemi ai giocatori che non lo hanno trovato. Immaginatevi un giocatore, io ce l'ho Janemba Ultra, quindi non sto parlando di me, parlo del sistema, del design di questa fottuta ultima stagione, di cui purtroppo mi sono accorto solo ora, perché non giocando tanto in PvP io facevo la mia first win e staccavo, cioè non mi interessava niente. Quindi è possibile secondo voi una cosa del genere, ma soprattutto vi faccio un'altra domanda. È sensato che la Treasure Battle giornaliera dia più RP delle vittorie in PvP. A me questa cosa fa... Ma perché? Ma come fai a concepire una cosa così brutta? Cioè l'unica modalità fatta così nel chill ti dà 50 RP e una vittoria sudata, alla fine della stagione eccetera, in PvP ti dà più 30. E se perdi, cioè perdi 45 punti. Io... Allora oggi sono propositivo, non voglio flammare, non voglio fare niente. Voglio fare... Mettiamoci nei panni di un designer della Bandai. Posso farvela io la modalità PvP come la farei? Posso descrivere come la farei io? È una cosa propositiva, perché sennò io questo video l'avrei creato come tutti gli altri in cui vi flammo a zero, ok? Credo del feedback che poi magari voi usate nei questionari. Però ora i questionari non li mettete, mortacci voi. Perché non li mettete? Perché sapete che in questo periodo i feedback che ricevereste sarebbero tutti negativi. Ma porca di quella vacca. Come faremmo una modalità decente in PvP? Adesso parlo io su come si fanno queste cose qua. Ma non parlo io perché ho la competenza di un designer, no, perché sono una persona logica dal punto di vista delle cose. Allora, punto numero uno. Le stagioni a RP tripli o agli RP doppi o della durata di tre settimane, punto numero uno, devono avere più ricompense. Perché che senso ha avere come questa una season di tre settimane con la ultra appena uscita, no? Giusto per far logicare chi non l'ha trovata in PvP. Quindi aumentare ulteriormente il livello di estrati dei tuoi giocatori e avere le stesse ricompense. Perché io qui leggo ancora che le ricompense di questa season sono mille cronocrystal, ma porca di quella vacca, mille cronocrystal per la top 2, mille cronocrystal per la top 9999. È la stessa cosa. Questo è sbagliato. Come si fa a farlo migliore? Innanzitutto, oltre alle regole che devono cambiare da season in season, è uno sbatto sviluppatore. Vi basta modificare nel codice questo numero qui. Ve lo dico io come si fa. Cioè, variabile A non uguale mille uguale duemila uguale duemile cinquecento. E dividere, facendo dei gruppi più sensati, le ricompense in PvP. Non è possibile che il primo prende 300 cronocrystal il top 1 della stagione. Ma che cosa stiamo dicendo? Cioè, lui probabilmente avrà giocato in media, in media, 150-200 ore in più del giocatore tipico di Legends e tu lo ricompensi con un titolo di merda e 300 cronocrystal. Ma questo, ragazzi, non è un discorso da fare per il top 1. È un discorso da fare a tutte le posizioni del PvP. La top 10k non può essere così tossica. Deve essere la cosa, cari sviluppatori, che ti fa mantenere il player a giocare sul tuo gioco. Quindi queste porcate qua, più 30, meno 45 con una winstreak che aumenta gli RP vinti di 3 di 3 perché queste qui, ragazzi, le ho fatte in winstreak, questa qua. E vedete che le mie winstreak aumentano di 3 e poi incrementano di 1. Ma, 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 ma che, che, che sistema è questo? Ma come puoi pensare? Che reward è del giocatore dargli più 3 se fa una winstreak e le successive winstreak gli dai più 1? Ma, ma cosa vi hanno insegnato? Ma che sistema di merda è? Ma come fate solo a pensare che un giocatore normale vedendo questa roba sia contento di giocare in PvP? E questo, ragazzi, non lo dico, io questa è una cosa oggettiva. Pensate, pensate un po' chi non ha trovato Gianemba. Io stasera non ho problemi a farmi qualche match in più. Non ho nessun tipo di problema. ma la maggior parte dei giocatori questa cosa non la regge. Lui lo devono pensare a mio avviso a mantenere i player sul gioco non a farli quittare. Questo è un metodo un meccanismo che fa quittare la gente. Non li fa amare Dragon Ball Legends. Uno, quando vede queste cose qui non ama il PvP. Cioè, Toshi, è inutile che ci giri attorno, no? E dici, beh, provate a giocare il PvP. No, non lo provano a giocare il PvP. Perché si vedono che dopo un'ora di match, un'ora di match, tu sei allo stesso punto di quando hai partito, di quando sei partito, ma che tu ci pensi? Ho buttato un'ora. Ho buttato un'ora. Avevo ripreso adesso a giocare, no? Nell'ultima settimana per le Legends Limited da Power e poi mi sono accorto di questa cosa e mi è salita una gran tristezza per voi ragazzi. Queste cose non c'erano nel vecchio sistema di più. Ma perché hanno fatto questa modifica? Io non riesco a spiegarmela, è proprio stupida. Continuando a parlare di ricompense di cui migliorare questa cosa, vanno creati dei gruppi, il gruppo top 3000, il gruppo top 6000, il gruppo top 9000, vanno date ricompense non necessariamente più elevate, ma devi dare un motivo alla gente di salire e di fare pvp. Non puoi dargli titoli, non puoi dargli 300 krono solo a top 1, che senso ha? Quindi, altra cosa, sempre a tutti i giocatori che desiderano chillarsela in pvp e fare la top 10k così come la facevano negli ultimi anni, non devi rendere la vita un casino. Tu devi rendere complicato raggiungere la rank god, la top 1000, la top 3000, ma non puoi adottare queste stesse regole in una season che ricordiamo è così, perché ci sono durante tre settimane quindi non hanno modificato le regole di questa season, perché così, non va bene, è sbagliato, è sbagliato, io comprendo che i giocatori quittino il gioco, li capisco benissimo, li capisco benissimo e ragazzi, ripeto, a me non me ne frega niente di fare la figura di quello che parla, sapete, i video di Legends mi fanno 10 euro l'uno, non me ne frega niente di fare 10 euro, io vorrei che questo gioco, un tempo considerato da me il best gioco fucking mobile trovabile sul Play Store, con un gameplay innovativo, torni ad essere quello di un tempo, torni ad essere un gioco che non cerca di creare un ambiente di PvP tossico, ma un ambiente come quello che avevo notato durato poco durante le scorse settimane, io spero che nella prossima season questo problema non ci sia, perché non essendo season da tre settimane il rank 70 magari non verrà raggiunto da tutti e questo credo che sia un problema in come loro hanno pensato le regole una volta raggiunto il rank 70 che su tre settimane giustamente giocano tutti quanti di più è più facile che ottengano tutti ma questi buchi di design una volta raggiunto una certa top non sono più accettabili dopo cinque anni di sviluppo non potete venirmi a dire li scusiamo vabbè chi se ne frega perché sono una multinazionale che fattura miliardi di dollari e queste cose quando tu metti qualcuno per pubblicarle mondialmente devono essere testate vanno testate non puoi far partire una season senza prima essere in grado consciamente di capire se stai facendo una buona cosa o una cosa tossica che ti rovina il gioco ma ne hanno delle statistiche le guardano che succede ai giocatori boh a volte mi viene il dubbio di no mi viene il dubbio di no come la cavolata sulle gilde che io vi tiro fuori in ogni video perché ormai è un meme gigante che dovrebbero essere aggiornate ma in realtà non vengono aggiornate vabbè io mi fermo qui non voglio esagerare oggi sono stato propositivo spero che utilizziate quello che io ho detto per creare se siete d'accordo con me potete anche prendere queste opinioni e pulirvici per i feedback del prossimo questionario che adesso non c'è perché giustamente non sono mica scemmi non è come questionario durante i periodi tristi lo mettono quando il gioco è durante le celebrazioni no così i manager che lavorano allo sviluppo di questo gioco vedendo che i numeri sono alle stelle e le recepizioni sono tutte positive non devono fare nessuna modifica perché quando le cose sono in anniversario in celebrazione va tutto bene e questo ve lo dico da chi ha trovato Gianemba da chi non ha problemi a farsi qualche match in più ma che vede che questo ambiente tossico dà fastidio dà fastidio e non solo a me ovviamente se siete top 1000 e giocate 4 ore 3 ore al giorno di questi problemi non ne avrete mai ovviamente però almeno concedetemi di poter dire che il design del pvp va pensato e questo non è un design pensato è una cosa fatta alla cazzo di cane non ne avrete mai